Una settimana ricca di appuntamenti in occasione della settimana della protezione civile a seguito della giornata della protezione civile che si svolge in tantissime attività in tantissime piazze con plurime iniziativa dalla solita iniziativa che anche quest'anno verrà ripetuta ulteriormente migliorata io non rischio al recupero di quella bellissima iniziativa che verrà rifatta dopo qualche anno in regione Lombardia che sono fiumi e fiumi sicuri alla stipula della convenzione con il Politecnico di Milano ha anche tutte quelle presenze della protezione civile all'interno o all'interno del mondo o della scuola insomma tantissime iniziative uno per comunicare far conoscere la cultura della sicurezza le buone maniere al fine di evitare emergenze due per far conoscere quel fantastico mondo della della protezione civile tre anche per fare in modo che i nostri volontari si occupino di attività importanti quelle ad esempio fiumi sicuri che garantirà la pulizia di vari di vari alve quindi con opere di sicurezza